Che cos'è? È un regalo da parte di tua madre. Cornovaglia. Un dono inatteso. Attento. Può aprire orizzonti nuovi. E salve. Mi scusi, sono Joss. Starò qui al cottage. E liberare emozioni mai provate. La vita è un rischio. E credo di doverlo correre. Sembra che il tempo sia volato. Resta ancora un po'. Resta ancora un po'.